Dottore Brisinda, partiamo dalla situazione coronavirus sul territorio crotonese ma in ospedale qui a Crotone da noi. Coronavirus in ospedale fortunatamente non abbiamo nessun ricoverato per Covid, quindi ci riteniamo fortunati fino a questo punto. Abbiamo comunque dei positivi che sono noti anche perché noi pubblichiamo quotidianamente un bollettino, quindi rendiamo noti i dati relativi al coronavirus che sono in isolamento domiciliare. Fortunatamente per la maggior parte asintomatici, quindi non ci obbligano anche a provvedere dal punto di vista sanitario ad un'assistenza medica a domicilio che comunque siamo pronti ad affrontare. Eventualmente se ne fosse necessità, l'azienda come ben sapete ha istituito le USCA che sono unità speciali di continuità assistenziale fatte da medici e infermieri, da specialisti ambulatoriali che all'occorrenza vanno a trattare i pazienti ammalati di coronavirus a domicilio. Fornendo tutti gli opportuni interventi per la diagnosi e anche per il trattamento dei sintomi. Ripeto, fortunatamente stiamo avendo una situazione in cui ci riteniamo relativamente tranquilli, nel senso che il fatto che siano questi soggetti asintomatici ci porta a pensare che la conteggiosità di questi soggetti sia molto bassa, quindi la possibilità di infettare altre persone si abbassa ed è un dato che stiamo riscontrando perché in effetti i positivi che stiamo tenendo in sorveglianza attiva al domicilio sono stati in grado di infettare i familiari, tranne la recezione, quindi la cosa ci tranquillizza. Abbiamo una situazione epidemiologica relativamente tranquilla. La bimba di due anni che ieri è stata dimessa dall'ospedale, positiva al coronavirus, lei è arrivata in ospedale per le convulsioni febbrili. Queste convulsioni febbrili erano riferite al coronavirus o erano riferite ad una sua patologia? La convulsione febbrili è una patologia che si manifesta, un'emergenza sanitaria che si manifesta nei bambini per cause diverse, compresa la febbre, febbre elevate, come ben sappiamo nei bambini piccoli, come nel caso specifico, la bambina di due anni può provocare una convulsione, che si chiama convulsione febbrili in questo caso. Non siamo certi dell'origine della convulsione, però la bambina è stata portata al pronto soccorso dell'ospedale in uno stato di emergenza sanitaria, in preda a delle convulsioni, che hanno richiesto l'immediato ricovero, perché non poteva essere dimessa e né tantomeno trattata in pronto soccorso. Quindi è stata ricoverata in pediatria in zona protetta, in isolamento, dopodiché è stato fatto il tampone e tutto il resto, il risultato è arrivato nella giornata successiva, perché questi sono i tempi, ed è risultata positiva. Sintomatologia poi regredita, la bambina è stata dimessa nella giornata di ieri, quindi dopo due giorni in mezzo di degenza ospedaliera, in una situazione di guarigione, almeno, dell'evento compulsivo. Quindi non ha altri sintomi ascrivibili al coronavirus. In cui è insolta la convulsione, una febbre che comunque regredita prontamente, cioè reagito bene dagli antipirettici, quindi è regredita, regredita tutta la sintomatologia. Infezionata coronavirus, la febbre è caratteristicamente refrattaria, quindi anche se noi la trattiamo con antipirettici, la febbre non recede facilmente. Quindi ritengo personalmente che non si sia trattata di una febbre legata ad un'infezione da coronavirus, ma che sia stato un rilievo occasionale, il fatto della positività. Di fatto anche il papà è positivo, quindi abbiamo riscontrato facendo i tamponi a tutti i contatti, quindi riteniamo che la bambina abbia contratto un'infezione proprio dal genitore, che non sapeva di averla perché per altre cose non ha avuto sintomi, veniva da fuori regione e avrà infettato la bambina.